se lei è venuta cirue se lei è venuto non è faiare il faiare non ti chiede che quando mi ha fatto non ci chiede non ti chiede grazie Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Non, 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 non. mi andano gottino a di petongui mi andami a jack kakai mi treffata joni munye e io joni munye non esra ma non mette fipai otti otti taccani ke beharunki dono mi fara tomi yo miro kodomi lewata munye mi alta gui io io ma come si mette fipi munye non munye mette ben fipop mai munye ma wada i dressi ura coronati do e io kao munye non munye munye mi munye lalatasi kwaadila ndokobami nani ono mato wadudon gongi misela mogumi ronkiti red andu nyandi 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 man tu yala munye hi munye munye lani nangy 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 apaske saini nangy nangy taura nangy lalani lalani Cosa? Perché si non so, ci sono i ragazzi. Cosa? 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. 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 Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non.